Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo episodio di Parlin Simulator 2013. Allora, oggi come nello scorso episodio, andremo a continuare di... di finire col course play. Intanto, piccolo update, qua mi sono dimenticato il peso, ho aggiunto il 724 come avevo quasi fatto nello scorso episodio e basta, adesso prepareremo la trebbia per andare a febbiare, fai che tu la direi di non si. Intanto qua ci possiamo dire di prendere campo 1 BGA, poi ci diamo questo, uso il percorso, questo cosi, questo mettiamo 25, poi lo scuso sul campo, ho detto 40, 50, tanto più impenso che mi faccia, velocità massima, attiva, attenzione il mouse, qua nessuno, sempre acceso dato che non ha detto trebbia, e basta. Intanto ci stanno in interesse. Perfetto, intanto noi andiamo a vedere, qui abbiamo questo, qui abbiamo questo, che è 99 su 100, vabbè, se vi succedono queste cose, che per esempio, vi si sposta la visuale, vi si abbassa, vi si avvicina, cose così, basta che premete la Z, almeno su questo trattore, per esempio, sul 724, ecco, basta che premete la rotellina del mouse, oppure la X, oppure la rotellina del mouse, boh, ah no, forse, no niente, non mi regno, la rotellina del mouse, esatto, poi io di solito tiro sempre, da così, a così la visuale, perché ho più, forse mi farà anche già, di averlo detto, ma mi sembra di vedere di più, ecco qua, la 3bx è incostrata, che adesso non verrà mai così, non si evita, aspetta, c'era un modo, con la rispostituzione, R, T, sì, non basta, non finirlo, eh, eh, dobbiamo ripristinarla, uff, però mi dà un punto, no, cosa è ripristinato, cosa è ripristinato, ragazzi, non fa niente, dai, ce la mandiamo giù da sole, va bene, grazie, nel traffico, dove sarà? è arrivato al porto, come, sì, infatti, non dobbiamo ripristinare, tipo, il cosplay, non dirmi, a parte che non c'era niente, non c'era niente, non c'era caso niente, da impostare, vero, e la rompimento, allora, eh, qui vediamo, se c'è, se è già tutto impostato, dov'è cambiare un posto, mettiamoci, velocità massima, qui lo vedo benessimo, così, eh, campo 1 di via, vai, e vai con me, a questo tiro, è una tappa più contiglia, bello, quattro, passate il 24, e va qua dietro, però questo cosa aspetta, niente, aspetta che si leva quello, ecco, ah, no, no, fermo, non direi che c'è quella trincia, cosa è successo, se è baggato, se si è baggato, se si è baggato, prendete ragazzi, non rispondete le domande, e prima che mi si blocchi il gioco, voglio, tanto col John Deer, benissimo, ingendirlo benissimo da solo, ehm, il pendant, poi andiamo a fare una mossa suicida, però può suicida al 5%, era un occhio sbagliato, non ce l'ha neanche, quindi, non so, ho sbagliato, si è bloccato pure lì, la scuola, che nel trappico, e dicevo non mi fa nemmeno uscire, da un uomo, da trattore, si a volte queste cose qui capitano, soprattutto a me capitano con 724, che, eh, soprattutto qua mi capitavano con i maxi bloccavano, poi hanno fatto un update di farming, ed è andato a proverso, quindi qua, intanto, portiamo questo, questo, maggiungiamo, e abbiamo fatto un uomo, percorso, e guardiamo, e mettiamo una princcia, che si è andata a prima, bello, allora, percorso, qui se noi lo riazzuriamo, questo, store campo 1, qua tutto un update, che sicuro, non è lo vorrei farcela, quindi, un percorso, di un'altra, questo, sto per combattere di un uomo, qui, 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 se vuoi essere chiudere almeno giusto il tutorial ve l'ho fatto se vuoi fare poi non mi interessa adesso forse cioè adesso andiamo a vedere sono andato a scaricare 5 ok e accedono questo qui non ci sta andando questa cosa qui dovrei attaccare al carrello cosa sarò sono proprio i suoi del via se ci pensi quindi trebissimo avanti di qua no no ecco ecco la mia barra è una prima di prima di quindi questo c'è di bellissimo adesso si muove questo quindi quindi l'altra parte intanto io mando che la trincia non 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 i non 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 ma sempre accesi, in questo percorso, magari mettendo questo, che non funziona, quindi ok, quindi mi assumo, perfetto. E' molto largo, mi ha detto che non è la nostra cosa. Ok, quindi ci sono prima che faremo il percorso, il piano là in un parco, ciò che direte. Ok, sto facendolo bene. Ah, forse ho saputo un foglio. Magari devo farlo appassire, però non vedo. Non è. Io non devo cambiare niente, non dobbiamo. Però così. Meglio. Tanto di questa parte la vorrei muovere fino a avanti. Però dovrei avere qui. Poi sì, la vorrei avere sempre qui. Qua si è allargato. Non mi vero. Ho saputo un foglio. Qui sta andando, qui sta andando. Intanto quello ci serve. Niente. Ci serve... Portare questo trattore... ...vicino là. ... ... ... ... Perchè qua faccio tutto questo? Penso che l'amputrator la toglierò perchè fa più casiniche e altre Perchè adesso vi c'è l'impostato di nuovo Andrei via come sta Sta arrivando Intanto qua non ci serve più, quick play Non lo vedremo più Ok una cosa che abbiamo notato è che si blocca da solo E' una cosa che avevo già visto quando noi cantiamo si blocca da solo Infatti andiamo già a guardare la faccia testa Perchè? 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 alle la c'è un giusto per questo un caro dovremmo riempirlo per cui migliori anche di più di un caro la prossima volta che si ferma la va poi non torna cioè poi torna ma poi si trova di nuovo per cui ho noto che c'è nello scorso bisogno di qualche delle cose importante importante che si fermi questo campo serve per lasciare una bella coltivata tutto ah guarda tre via noi ci ce lo abbiamo spenta ma come abbiamo r p a ah no sono super ecco queste sono davanti no dietro e davanti enti abbiamo frecce dietro frecce cliccate come si muove poi basta stanno andando strano ma vero ecco troppo la letta almeno arriva nel fondo non 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 ma non 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 un po' che mi vede a seminare seminato ancora mai continuare se potete un po' che mi vede già così questa è un'altra cosa che io non posso dire sicuramente sperando che non ci vieda adesso voglio comprare una cosa che fa un spostamento veloce voglio vedere se è arrivato in fondo poi spero che non si vede spero che non spero che non si arriva neanche perché poteva fare benissimo così da lo studio vedete si è andata la vasca in fidata bisogna andare molto a vedere quanto in teoria ci hanno scaricato no, il film è che non ci ho scaricato la sono compattata ci ho scaricato solo di un giro una volta quindi vediamo quanto abbiamo intanto la nostra video possiamo vederla per fare questi softball un po' di errori abbiamo un buon eeeh un buon, è una buona percentuale quindi sono spero che i miei dai lo faccio vedere quando c'è l'unico e ce l'ho che è stato oh oh qua sotto ci sono già dei muscoli l'unica cosa che vi dovete ricordare è che anche quando ho alzato la visuale tipo voi non siete altri così cioè non è che se passate sotto il muro i stessi piatti così non sono volate ma anche se c'è sempre questa altezza come lo dico perchè si, qua sotto c'è il risultato però non sono ancora formato dai non è che cosa fa io non è che cosa fa io non è che cosa fa io sembra che esistesse buon canto per un'ora che forse è arrivato nel giorno non lo vogliamo andare a fare dentro però adesso si come andando avanti bisogna crescere una roba adesso mi fermo perchè so che cresce il tuo tempo infatti vedete cattivo cattivo magari adesso cresce di 3 stadia alla volta mi mi appassisce certo non è vero vedete la ucina dove la fa ah ecco la luce la fa la telecamera quindi e se faccio così guarda un po' di luce spero ovunque non ha vinto il mio stadio oh 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 niente non mi ha passito no è vinto perché non ho visto la metà rossa allora qua si può iniziare a previare mettendoci il nostro palato combine qua ci mettiamo ehm no standing poi a cerchio no mettiamo così mettiamo cosplay ecco perchè forse prima mi facevo quel quadro per tenere la trince e mi sono scordata di mettere questo bene ho trovato il mio auto combine scudo io sono l'attivo furbo ci vedete che poi ha dei problemi cioè che la crediamo in parte allora allora me ne serve il gusto poco ok questo mi basta ok questo mi basta mettere young nuovo che da qua parte va a casa a scaricare e mi ha detto che per anzi sapete una cosa mi ha costo di farla scaricare a casa quindi per velocizzare un po le cose lo porto qua, facendo qui ci faccio scaricare lo porto qui e ci piazziamo questo è tutto il giro che deve farsi per vedere il percorso e poi scarico trevia campo trevia camp il camp il scusa per questo scusate non va ah perchè io faccio messi un che come non posso farlo ma cos'è? un bug? perché adesso si è spento un 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 Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se ancora non lo avete fatto, ditemi se continuare, se vi piace questa miniserie, e niente, io spererei di riuscire ad arrivare a qualcosa, ma non ce la farò mai.